Salve ragazzi e bentornati sul canale, oggi siamo al 5 gennaio 2021 e anche oggi come sempre andiamo a vedere le offerte del negozio oggetti di Fortnite Ma ovviamente prima di fare questo, vi ricordo in basso a destra, supporta un creatore, dimostra il tuo supporto a un creatore, i tuoi acquisti in gioco aiuteranno a supportare questo creatore, cioè me Ragazzi inserite il codice LordCreamor come scritto qua, premete accetta e controllate ogni volta che fate un acquisto sullo shop Perché ogni tanto Fortnite vi toglie il codice e non si sa perché Ma andiamo a vedere le offerte del negozio di oggi E anche oggi ragazzi abbiamo cose abbastanza carine, attenzione abbiamo un'emote sincronizzata, Last Forever signori, eccola qua Un'emote rara, costa 500 V-Bucks, chi ha detto che l'amore non dura per sempre? Questa qua la potete fare insieme a un altro giocatore che ha la stessa emote Prima apparizione, capitolo 2, stagione 4 Sembra carina, sarebbe bello vederlo in coppia però non è possibile al momento Quindi compratela e vedete che fa Ma andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra emote Rolly, lo stile ce lo metti tu, anche questa costa 500 V-Bucks, molto caruccia pure questa Non sento la musica purtroppo, forse saranno musiche col copyright, non lo so Vabbè andiamo avanti E poi ragazzi abbiamo un costume epico Leader, squadra matcha, con diversi stili Attenzione, attenzione, andiamo a vedere gli stili C'ha due stili, lo stile predefinito che è questo qua, sembra Voltron Non so chi di voi si ricorda Voltron, il robot che si formava con i 5 leoni, fighissimo Sembra Voltron, tutto molto caruccio Oppure c'ha questo stile qua che è molto bello, stile metallo Richiede montaggio, fa parte del set duello finale, molto carino E insieme a questo costume vi danno anche ragazzi, attenzione Il dorso decorativo, anche lui con due stili diversi, suppongo Non me lo fa vedere ma qua c'è la più, di solito quando c'è, ecco qua infatti Ecco qua i due stili predefinito e anche lui in metallo, ottimo E ancora vi danno pure un emote, ecco qua Super caricato, carica il colpo e fagliela vedere Fa parte del set duello finale Anche qua c'è un più vicino, non so che cacchio vuol dire Però è figo, molto molto bello Questo qua lo pagate solamente 1600 v-bac Che non è proprio niente, insomma un costume Dorso decorativo, più emote, raga, figo E poi ragazzi abbiamo anche uno strumento di raccolta raro Distruttrici combinate, veramente fighe Forza a ogni fendente, anche questo fa parte del set duello finale Prima apparizione, stagione 9, 800 v-bac E ovviamente abbiamo anche una copertura rara Squadra matcha, mostra il tuo stile Molto carino pure questa, 500 v-bac Ma andiamo avanti perché abbiamo ancora altre cose Attenzione questo è il piccone incluso Destino di terrore ragazzi Un costume epico da 1800 v-bac Molto figo Squadra il piccone, colpi di errore dal dorso decorativo Colpi di errore, che vuol dire Bello però, bello, fatto proprio bene Che il terrore ricolga nell'incontro col destino Fa parte del set oscuramento Molto carino Insieme a questo vi danno il dorso decorativo Ecco che è lo scudo di terrore Eccolo qua, anche questo molto bello E poi vi danno ovviamente lo strumento di raccolta Colpi di terrore, incluso ragazzi 1800 v-bac Molto carino Un set completo Fondamentalmente a pochi v-bac Dai, ci sta, ci sta E andiamo con un altro costume epico Omen di terrore 1500 v-bac Eccolo qua Con il suo dorso decorativo Molto bello Nube di terrore Questo è proprio carino Questo non ha lo strumento di raccolta E costa 1500 v-bac Ma attenzione ragazzi Perché abbiamo uno strumento di raccolta epico Lascia dell'oracolo del terrore Visioni di terrore 1200 v-bac Effettivamente è fatta molto bene Costa un botto Però, insomma, è fatta proprio bene Dai, fa parte del set oscuramento E poi ragazzone abbiamo questo costume Molto bislacco Si chiama infinito È un costume epico La vittoria è scritta nelle stelle Carino A me non piace Però è carino, dai E insieme a lui vi danno pure Il dorso decorativo Campo di stelle No, questo non mi piace Il destino della galassia è sulle tue spalle Vabbè, costa 1500 v-bac Ci sta Ma andando avanti abbiamo Lo strumento di raccolta raro Attacco stellare Ascia astrale Con il potere delle stelle Molto carina questa 800 v-bac E abbiamo anche Una copertura rara Questa è proprio bella Zero eterno ragazzi Mostra il tuo stile Molto figa questa 500 v-bac E ragazzi abbiamo Le offerte giornaliere Attenzione È un costume raro Cromo Solido Fino al nucleo Carinissima questa Fa parte del set acciaio massiccio Molto bello come costume E poi abbiamo Richiamo da battaglia Un'emote che già ho Sicuramente qualcuno me l'ha regalata Sicuro 200 v-bac Molto figa E ancora un altro costume raro Mastino Costume Mastino Raro Prima apparizione Stagione 1 Attenzione raga Carinissima questa 1200 v-bac E abbiamo un'emote Rara Ordinaria amministrazione Con una mano legata Detto alla schiena Fa parte del set Duello finale Prima apparizione Stagione 9 Costa 500 v-bac Non comune Emote Matcha fan Ragazzi Fichissimo Viva il leader Della squadra Matcha Fa parte del set Duello finale Prima apparizione Stagione 9 Costa solo 100 v-bac Raga Non costa un cacchio Questa dai E ancora Squadra mostro I love Squadra mostro Razza di mostro Fa parte del set Duello finale Prima apparizione Stagione 9 Anche questa Costa solo 100 v-bac Poi ragazzoli Ovviamente abbiamo La stagione Canta insieme Emote non comune Questa è gratis Ormai penso che ce l'abbiate tutti È un emote che si può fare insieme ad altre persone Insomma cantate tutti belli felici E poi abbiamo ovviamente il bundle Kratos Che abbiamo già visto Allora abbiamo il costume di Kratos Poi abbiamo il suo dorso decorativo Mimir Che è molto animato Fa un sacco di roba Poi abbiamo L'ascia del leviatano Anche lei Con due stili diversi Poi abbiamo il deltaplano Lo scudo del guardiano E per finire abbiamo l'emote Scoppio glaciale Tutto questo a 2200 v-bac Anziché 3300 Quindi risparmiate 1100 v-bac Oppure come al solito Li possiamo prendere separatamente Quindi abbiamo Il costume di Kratos Con il suo dorso decorativo Mimir A 1500 v-bac Molto carino Oppure possiamo prendere L'ascia del leviatano Con due stili Più l'emote Scoppio glaciale A 1000 v-bac E per finire Cari ragazzoli Abbiamo lui Lo scudo del guardiano Competizione Giocatori leggendari Bellissimo deltaplano Molto figo A soli 800 v-bac Ma andiamo avanti Perché abbiamo Le classiche offerte A tempo E iniziamo con il pacchetto Leggende gelate Che abbiamo visto 2000 volte 2500 v-bac Lo andiamo ad esaminare Velocemente Allora abbiamo i costumi Slavina Costume Guardineve Poi rompighiaccio Kitsune di ghiaccio Come dorso decorativo Una bellissima Volpe polare Un altro dorso decorativo Poi abbiamo Le ali della brina Ennesimo dorso decorativo E poi strumenti di raccolta Lame stregate Urli fenditura glaciale Con due stili diversi E per finire Abbiamo lui Il bastone Frostbite Questo lo potete avere A 2500 v-bac E poi c'è il pacchetto Diva diamantina Che costa 3 euro E 99 E vi dà Il costume raro Diva diamantina Con il suo pacchetto Splendida Come dorso decorativo Poi abbiamo La lama A 6 carati Ragazzi Attenzione Strumento di raccolta E per finire 600 v-bac In omaggio Molto carino pure Questo pacchetto 3 euro e 99 E poi abbiamo ancora Il pacchetto Marvel Regalità e guerrieri 24 euro e 99 Dove abbiamo Il costume di Black Panther Il suo dorso decorativo Il mantello del re Entrambi con due stili differenti I pugnali in vibranio Uno strumento di raccolta Poi il deltaplano Il cavalcacieli di Wakanda E ancora Il costume di Captain Marvel Con due stili diversi Il suo dorso decorativo Il dorso da Kree Anche questo Con due stili diversi Lo strumento di raccolta Sempre con due stili Il bastone Alpha Il deltaplano Il potere di Marvel Che non possiamo mai vedere Purtroppo Ma sarà sicuramente fighissimo Abbiamo un altro costume Taskmaster Il suo dorso decorativo Lo scudo del mutaforma E per finire Ragazzi La spada del imitatore Molto bello Come strumento di raccolta A 24 euro e 99 Un sacco di roba E poi abbiamo ancora Il pacchetto Leggende Polari 19 euro e 99 E ci danno Ragazzi Operazione Zabbaglione Congelato Poi ci danno Il pesce secco congelato Ci danno Dilanietro con due stili diversi Il dorso decorativo Le guglie del castello Un altro costume raro Con due stili diversi Nome in codice Elfo Eccolo qua Il suo dorso decorativo Scudo elfo Anche lui Con due stili diversi E per finire L'emote L'ugito potente Tutto questo A 19 euro e 99 Carino E per finire Abbiamo lui Bundle Ride bene Ride ultimo 29 euro e 99 Un botto di roba Signori Attenzione Il costume Joker Con tre stili diversi Il costume di Poison Eevee Anche lei Con stili diversi Poi abbiamo Re Mida Pure lui Con stili diversi E poi Dorsi decorativi Florileggio Ghigno di morte Addirittura animato Un altro Emblema di Mida Fighissimo E poi Strumenti di raccolta Abbiamo L'incoronatore L'ascia d'edera Il tiro mancino E il bellissimo Bastone vendetta Di gioche Che è proprio figo Per finire Ovviamente C'è La scia Pesca una carta Tutto questo Lo potete avere Da 29,99€ Poi come al solito Ragazzuoli Troviamo il pass battaglia E la crew di Fortnite Come al solito Vi ricordo ragazzuoli In basso a destra Supporta un creatore Scrivete qua il codice Lord Cramor Tutto attaccato Se vi fa piacere Per supportarmi Ogni acquisto che farete Andrà a supportare Il canale Io per questo video Dello shop di Fortnite Del 5 gennaio 2021 Mi fermo qua Spero che il video Vi torni utile Soprattutto spero Che vi sia piaciuto E se vi è piaciuto Ragazzi mi raccomando Lasciate un like Spolliciate tantissimo Condividete il servito Del canale Sui vostri social E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Cliccando sulla campanellina Per non perdervi Nessun aggiornamento Noi per oggi Ci fermiamo qua Ma io vi do appuntamento Sul canale Sempre oggi Per nuovi video E nuove live Ciao ragazzi Ciao ragazzi